Musica Ragazzi bentornati a un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 Oggi andremo a provare, come ormai sto facendo ogni sabato più o meno, una nuova mod abbastanza carina Simile a quella provata a tempo fa in cui praticamente potevamo utilizzare le armi di Code 2 su appunto Black Ops 3 Oggi però non saranno quelle le armi ma saranno quelle di Black Ops 1 E per rendere tutto ancora più suggestivo ho scaricato una mappa creata da un utente che è la copia esatta di Nuketown originali, quindi quella di Black Ops 1 Quindi faremo un semplice ched con le armi di Black Ops 1 nella mappa di Black Ops 1 Spero che vi piaccia un video molto semplice, così un classico video di sabato, così tranquillo Godetevelo e noi ci becchiamo direttamente domani alle 12.30 con un nuovo video Buona visione Ok ragazzi ci siamo, siamo pronti per provare questa nuova moda Ragazzi salutate tutti, voi che siete in lobby Bella, bella, bella picciotti Allora oggi andremo a fare una cosa che abbiamo già fatto con una mod simile Ovvero andare a fare una partita su Black Ops 3 come state vedendo con le armi di Black Ops 1 Infatti ho visto questa mod che è veramente perfetta, infatti l'avevano già provata Sono fatte benissimo, sembrano proprio le armi vere di Black Ops 1 Cioè non noto proprio differenza, anche a livello di statistiche, di rumori identiche Quindi queste sono le classi che ho preparato, ho messo un po' di armi varie E andremo a fare un cerchio e distruggi, ma un cerchio e distruggi non in una mappa a caso Ma su Nuketown versione Black Ops 1 Perché in parallelo ho scregato anche una Nuketown che è praticamente identica a quella fatta su Black Ops 1 Quindi armi di B1 e mappa di B1 Insomma un video un po' diverso, andiamo a farci una partita È un po' strano perché in questi mod sono sempre un po' strane Perché usi le cose vecchie in un gioco nuovo Insomma viene fuori una cosa un po' strana Però vedremo come andrà Allora, sono un po' squilibrate mi sa le squadre raga Non vorrei dire, secondo me ci fanno tipo il culo a striscia Però vabbè Fidati come se fosse due contro tre Allora io voglio provare questo raga Non l'ho ancora Ma raga è identico alla cappa di Black Ops 1 Cioè proprio l'hanno fatta identica Assurdo minchia Bravissimo quello che ha fatto sta mod Ok Raga oh Dagli Non state troppo fermi allo spawn Sono qua ci Ci distruggono Dagli raga Devo rimpiazzare l'oro C'è uno Perché cazzo è rimbalzato Ok c'è uno del garage raga C'è uno del garage No Mamma mia Porca troia Va bene E qua bisogna giocare un po' di squadra raga Sennò ci siete compagni Faretone le ho fatti Sì Faretone le con più grinta Capite avere contro rampage Ci siamo Ok ok Allora Lo star ma non l'ho ancora sparato quindi la voglio tenere Raga dai carichi Veloci raga Non sulla casa Non è neanche colpito Non al centro Preso T-rax Piazza sta bomba No zio dove è È dietro la macchina Penso Dov'è Tu che sei morto Dov'è 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 È dall'autobus giallo Ah c'è uno C'è uno in fondo allo spawn Bravissimo Oh sì È qua davanti aiutami Ho ferito Oddio Cos'era sta esplosione marcia Let's go Non lo so Mi esplosione l'auto davanti raga Ok questo mi fa rivalutare completamente la mappa L'esplosione più brutta che mi ha mai visto in vita mia Vi giuro Sembrava l'esplosione di un petardo Non dà l'indicatore della granata Non lo dà? Eh vabbè Alla fine le armi sono fatte benissimo La mappa un po' meno Però ci siamo dovuti da contentare Cioè alla fine Volevo fare assolutamente un remake di Nuketown vecchio Per essere proprio a tema Tra l'altro non ci sono i doppi salti Questo non l'ho detto E questo rende il tutto più Più simile a B1 appunto Oddio Oddio no ne ho uno dietro Uno è il garage Tieni squadra mia Ok Tu anche sei morto Dov'era? Fatemi stick all'auto raga Ditemi dove sono perché Raga dietro Sparali Sparali Oh mio dio Ho una mira pietosa Redonatemi Dov'è? Ma è che non gli entro i colpi Non uso il Wav per rispetto Va ti giuro Sennò Destra Dietro tira Dietro 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 Let's go Questa è la connessione In effetti 23 contro 120 Cioè Comunque raga I miei compagni Per favore Infatti con l'auto Si stiamo morti tutti Non ho sentito minimamente Dove erano i nemici Poi c'è questo bastardonnete di T-Rex Che gioca con il silenziatore In una privata Meriti tipo la flagellazione L'apidazione Ma neanche io Cioè la volevo mettere Ma ho detto E forse è il calo di essere Ecco anche tu meriti Ora me la metto anche io Io ho trovato la classica Mamma mia Quest'arma Cosa cazzo mi ricorda Mamma mia Bei tempi Quando giocavo con quest'arma Ma c'è la frenata Minchia si è messo No vabbè No mi ha E vabbè Fanculo Mi ha Mi ha anticipato Sono contro tutti Leopard Non nemmeno finto la frase Raga Minchia l'arma che si è messo Cosa è buggatissima Raga Buggatissima Sì 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 No il G11 Raga è la cosa più buggata Raga per favore Let's go C'è uno nel garage Casa Casa Finestra La finestra Garage l'ho visto Ok Devono piazzarlo Raga Fermi piazzatevi Non muovetevi Ti stanno pushando No 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 Fermo Fermi ok Non challenge Raga rimane solo t-rax Fermi Fermi Salto a destra Salto a destra Ciao qua Ok Non l'ho visto Let's go Bravo Leopard Che si porta a casa La prima kill O comunque sembra di giocare Veramente al vecchio B1 Raga Non so Questa Questa sensazione Cioè non proprio uguale Però mi ricordo ai Chad Che facevo all'epoca Quando giocavo in pubblico E ci va Nuketown Quando mi corre Raga Non corre Ok non correva Ok Che è sta Bombs Let's go Mi spano raga Aiuto Bravo Panettone Raga quando gli ho detto Della stella di Rampage È diventata una bestia Ok c'è uno dietro il camion Aiutami Leopard Uno camion Tutti e due Guarda tutti e due feriti Dietro il camion Uno davanti a noi E l'altro E tu hai panetto Qua Leopard È qua 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 Sulla destra se non sbaglio Ecco l'hai visto Guardi che tuo panettone Sì Leopard Leopard è a destra Leopard Leopard qua qua Sì Leopard là Come fa E c'era davanti Raga Non lo vedevo Sono stati momenti In cui ti è corso davanti Vabbè dai dai Ti cazzo Tirà tre C'è la competizionista Nesta partita Allora È bello giocare uno Specialisti gli usiamo Poi c'è Sì potete usarle Però vi ho che spendi Non mettervi roba estremamente forte Tipo macchina da guerra Cosa così Vabbè No 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 Ho specialità Non ho armi Mi ha lasciato la bomba Fermo Raga Doviamo difendere Mi raccomando Uno fa l'altra casa Ok basta Non c'è più Poi mi metto una di queste armi Fermi raga Fermi Fate i bravi Ok Uno mi sa che è sulla bomba Raga Sulla bomba Sulla bomba Challengeate quello sulla bomba Dov'è Leopà? Dov'è Leopà? Dimmi dove è È dietro l'altra macchina Ok ok Quella bianca No guardalo Che bastardo Godo Dov'è? 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 Te la sta piazzando 100% Eh in fondo sì Precision Eh poi c'è Leopà È dietro al camion rosso Leopà C'è Leopà dentro la casa Eccolo là Cazzo non l'avevo visto Godo Dai così raga Prima ti ha molto combattuta La stavo po' sudando Comunque ti avevo visto prima Eh Precision Quando l'ho sopra la casa Ti ho visto camminare lì Quindi sono andato di Piano piano Silenzioso Comunque giocare C'è l'impevate divertente Io non lo faccio da una vita Però effettivamente È più divertente Di cazzeggiare così Allora Fatemi vedere un po' Attento una cosa impossibile raga Ci voglio provare Se ce la faccio Anch'io vediamo Se ce la faccio Panettone Voglio che fai Un ballo Lo sniper è buggato Non usatelo Ecco appunto No 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 Non ci credo che c'era uno sdraiato Veramente No bruschetta no Ah ecco cosa fa bruschetta Che bastardo No è la prima volta che mi sdrai Entita la partita No è la prima volta che mi sdrai Entita la partita Niente vabbè Ho fatto la cazzata io raga Sono andato come un folle Ok Andiamo di quest'arma Ah quanto si vince Si vince Ah sei Quindi siamo praticamente vicini alla vine Io ho provato a lasciargli col pompa Però sono stato stoppato istantaneamente Da uno sdrai Da bruschetta sdraiato nella casa A mirare Dai raga Oh raga Mi raccomando Vorrei farvi notare il mio ping a 228 Comunque Perché sei troppo bravo Perché adesso è a 120 È un handicap messo apposta Per renderti più Più a nostro livello Una cosa Se uccido qualcuno Non insultatemi Non fare cose che mi facciano incazzare Ti prego Ho visto uno al centro raga Ok Bravo leopad Indietreggia leopad Tutti e due a destra Eh in casa Tutti e due a destra raga No mi è scivolato Mi son grattato C'era ben dietro zio È qua dietro Ce l'ha dietro Occhio eh Erivo subito No Ed è il nostro spoon È il nostro spoon Oh Vabbè Per uscate si è fatto un clutch incredibile Eh vabbè Ce l'ha giocato in maniera esaggiatata Ragazzi L'avevo sul mirino Mi son grattato la faccia Un attimo Porca troppo Ed è passato L'avrei ucciso Sto rosigare Mai grattarsi la faccia Minchia mai Ci sono stati piccoli problemi tecnici Va bene Va bene Va bene Siamo sotto di uno Porca puttana Eh vabbè Non è andata raga Non lanciate Per favore Ok Che ti resti un Una tozza Prego Non lo prendo Cazzo È dietro il camion raga No no Chi è che mi si parla dietro E' vero sopra la casa Panettone Che ti ho ucciso Dov'era? No E' me ucciso Era giù Dall'esclinata Della casa Perché mi sono messo Questa cazzo di anna Non la so usare Era uno sopra Mi sembra Sì sì C'era ve lo sopra E l'altro dietro Dov'è quello che ti spara? Panettone era a fondo E' panettone preso Spawn Nostro? Eh sì Ecco qua Vaffanculo Eh vabbè raga Ho fatto quello che ho fatto 16 Vabbè raga Ho bella paleta Mi sono divertito comunque Raga Io spero avete apprezzato Questo video Cosa di un po' Diverso Raga Ci becchiamo Un prossimo video Salutate E bella Ciao 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 Ciao